Uno è sicuro che chiare idee ce l'ho. Ce qui è certe è che ho delle idee molto clare. Posso dire che con me vengono due persone. Ho già due persone che mi diranno. E altri prendo sul posto che sono già qui. Ma per i nomi non posso dire niente perché prima devono firmare. Secondo devo anche parlare con certi per decidere. Ma fino all'inizio preparazioni la settimana prossima saranno tutti a disposizione. La settimana prossima, già, noi avremo le idee un po' più clare. E noi comincerò il nostro lavoro. Non sono qui presenti, ma... Ma... Nell'idea, la mia lista è già... Ah, non sono qui presenti, ma sono già presenti nella mia lista. Questi persone sono già presenti nella mia lista. E per i nomi dovete aspettare una settimana? Per avere i nomi di queste persone, il conviendra che voi attendiate la prossima settimana. ZerTube ZerTube Aولo quanaة in elettronia FII الجزائir